Musica Purtroppo un bene storico della nostra comunità che abbiamo visto ieri mattina siamo svegliati e abbiamo trovato crollato. C'erano state già delle avvisaglie, un privato aveva già fatto un passaggio, aveva allargato uno degli archi e io avevo fatto due ordinanze perché i privati sono due, poi tra l'altro anche i proprietari del terreno sottostante, purtroppo il bene non è mai stato incamerato dei beni culturali, quindi risultava di due privati e abbiamo fatto le ordinanze in tal senso. Poi dopo i 30 giorni volevamo operare in danni però effettivamente c'era la difficoltà perché essendo un ponte medievale ovviamente non potevamo operare senza il parere della sovrintendenza, quindi abbiamo fatto anche dei solliciti alla sovrintendenza. Qualche mese fa siamo stati con la sovrintendenza archeologica qui a fare la dottorista Pacico, a fare un sopralluco per verificare il da farsi, poi purtroppo ieri... Il vento è arrivato prima. Il vento è arrivato prima, non ce l'aspettavamo perché poi essendo fatta d'archi effettivamente il vento non ha mai creato grossi danni. C'è anche un'altra tesi che stiamo verificando con i carabinieri, stanno fatte le indagini perché può essere anche una manomissione o qualcos'altro oltre al vento in sé. Il ponte è un ponte medievale, portava l'acqua dalla frazione Molina fino su a Benincasa, qualcosa che resta anche oggi con mezzi moderni ovviamente, sempre da Molina arriva l'acqua all'acquedotto, sempre a Dragoneia e scende fino a Positano. Molina è una terra piena d'acqua e quindi era già utilizzata all'epoca, purtroppo abbiamo perso questo bene. Cercheremo in tutti i modi di vedere il da farsi, prima di tutto mettere in sicurezza ciò che rimane dell'acquedotto e l'altra parte capire cosa fare e come operare.